Salve a tutti e ben tornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo che non riesci a disinstallare un programma del tutto sul sistema quindi dobbiamo forzare questo programma a disinstallarsi quindi se io per esempio vado sulle impostazioni app e app installate per esempio vado sui tre puntini voglio disinstallare un gioco tre puntini disinstalla disinstalla e mi esce impossibile trovare il file quindi verificare il nome del file sia corretto quindi di provare facciamo ok quindi noi andiamo a scrivere app.cpl eccolo qua elemento del pannello di controllo cerchiamo all'interno ecco il gioco disinstallo e faccio sì disinstallato se adesso vado di nuovo su installazioni applicazioni il gioco qua dentro si è tolto e si è rimosso del tutto quindi se questo video ti è stato utilissimo siccome disinstallare forzare al meglio la disinstallazione di un programma o un gioco iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao